Sette mesi di reclusione, 300 euro di multa, 27.000 euro di risarcimento alla parte civile e questa è la pena inflitta da giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, AMC, 51enne di Napoli, imprenditore del comparto della ristorazione che è finito oggi alla sbarra per il reato di truffa. Un reggiro belle buono, secondo la procura e carabinieri della compagnia di Casteldisangro che con il luogotenente Domenico Cavalca curarono l'attività d'indagine dal 17 febbraio 2013 al 31 maggio 2014. L'inchiesta dei militari portò ad accertare che l'imprenditore sarebbe fatto consegnare 22.000 euro in contanti da una dipendente, mediante il reggiro consistito nel promettere alla donna di farla entrare in società al 50% nella gestione del ristorante situato a Roccaraso. Il 6 giugno del 2013 il 51enne avrebbe quindi condotto la sua aspirante socia da un consulente del lavoro per la firma di un atto di ricognizione dei propri beni immobili per poi licenziarla. Lascia scadere infruttuosamente il termine per la costituzione della società dopo aver impiegato il capitale ricevuto per le spese esclusivamente personali. La dipendente, assistita dall'avvocato Leforo di Sulmona, Enrico Tedeschi, ha confermato i fatti. Per questo il giudice ha condannato l'imprenditore alla pena di sette mesi di reclusione e più molta a risarcimento, un vizio che è costato caro all'uomo condannato in precedenza per analogo procedimento discusso nel tribunale di Lanciano.